Bella a tutti, belli e brutti, io sono Umberto Balumbo e siamo qui per fare il video dei 10 migliori esterni d'attacco del campionato 2018-2019. Bene, questa serie si sta svolgendo molto bene, sono contento, quindi raggiungiamo i 5 like per il video sugli attaccanti e vi dico, c'è una special guest in questo episodio, comunque, nell'ultimo episodio, comunque, vi voglio iniziare subito questo video perché non voglio perdere tempo. Decimo posto per Federico Chiesa, diciamo che è stato lui a tirare un po' sulla baracca, nel senso che, sì, Chiesa è un ottimo, ottimo giocatore, in Under 21 ha fatto vedere delle cose strepe. E poi parliamoci chiaro, se la Juve lo comprasse farebbe un colpo assurdo, anche se io non vorrei che andasse alla Juve perché, diciamo che, è un giocatore che alla Juve non troverebbe molto spazio per le ali che ha. Anche se un attacco Ronaldo-Chiesa, che si alternerebbe a questo punto con Bernardeschi, sarebbe buono alla fine. E diciamo che Chiesa è un giocatore esplosivo, ha tirato sulla baracca, diciamo così perché la Fiorentina ha fatto schifo quest'anno ed è l'unico che si salva, che comunque ha giocato molto molto bene, tanta voglia di fare, è stato proprio lui che l'ha tirata su, quindi la salvezza la dovete soltanto a Federico Chiesa, veramente soltanto a lui. Nono posto per Insigne del Napoli. Insigne. Allora, diciamo che quest'anno Insigne non si è espresso molto bene, abbastanza discontinuo rispetto agli anni scorsi. Perché? Probabilmente causa infortunio, ma diciamo che, secondo me, la botta che ha preso è perché non è stato più messo esterno, perché ha iniziato a giocare punta, ha iniziato a giocare seconda punta con Milik, cioè, che cazzo dicevo? Ha iniziato a giocare seconda punta con Milik e diciamo che ha perso molto perché, sì, tu diresti no, cioè Milik, lui gira intorno, farà una caterba di gol e invece no, e invece no, perché, diciamo, lui si trova meglio a rientrare sul suo piede dall'esterno, sì, è più un esterno, quindi nel 4-4-2 non si trova molto bene. Vedremo, vedremo gli anni prossimi, a 4 centrocampo non ci giocherà mai perché non è quel giocatore lì, Cagliacollo può fare benissimo, ma lui non è quel giocatore lì, quindi sicuramente resterà là, sfisso. Vedremo, vedremo come si svolgerà, come si svolgerà anche la prossima stagione e vedremo dove giocherà perché sinceramente lo voglio in nazionale perché è un giocatore esplosivo fortissimo. Ottavo posto per Dries Mertens, sempre del Napoli. Allora, qui dovete capire una cosa, io ho fatto questo discorso, l'anno scorso l'avrei messo tra le punte, questo non lo metto tra gli esterni perché quando doveva far giocare Mertens, Milik e Insigne, Ancelotti non avrebbe fatto come Sarri, non avrebbe messo Mertens e Milik, avrebbe messo Insigne e Milik e Mertens più arretrato, come fa diciamo il Belgio, che lo mette più diciamo trequartista, stile De Bruni, De Bruni, quindi comunque è un trequartista che più che autocrossa molto e gioca molto dietro servendo i pallori all'attaccante che è Lukaku, quindi quel tipo di giocatore lì. E diciamo questo l'ha fatto anche Ancelotti, quindi l'ho voluto mettere tra gli esterni. Comunque i suoi cogli affatti, un ottimo rendimento, continua a giocare molto bene, è un giocatore fortissimo. Il problema è che a Napoli non può giocare esterno perché non rende come da punta e probabilmente verrà ceduto, speriamo alla Roma perché io sarei veramente contentissimo, anche se probabilmente arriverà Higuain, se arrivasse Higuain sarei contento anche di più perché comunque è l'attaccante più forte a mio parere, anche se Mertens non ha nulla a togliere a Mertens che è un attaccante pazzesco, ma non mi dispiacerebbe nessuno alla fine, come sostituto di Djeko. Comunque passiamo al settimo posto, qui troviamo il Papu Gomez dell'Atalanta. Allora, quest'anno è stato un anno pazzesco per tutti i giocatori dell'Atalanta, quindi che vedi pure Jim City ha fatto una buona stagione. Il Papu Gomez è un giocatore esplosivo, un giocatore tecnico, un giocatore veloce, è un giocatore di spinta, un giocatore caparbio, con tanta voglia di fare, tanto dribbling, un giocatore che te la mette sempre in mezzo, che gioca per la squadra, che dall'Atalanta non se ne andrà mai, almeno che non vada in Serie B, e credo che quest'anno se la meriti la Champions perché ha giocato veramente bene. Sì, solite cose, è discontinuo, perché alcune partite le alterna a... buone partite, anzi, ottime partite, le alterna a partite dove non si vede mai il zero proprio. E quindi io direi che più del settimo posto non lo posso mettere. Comunque, la sua stagione è più che sufficiente, è una sufficienza piena e meritata. Una sufficienza piena e meritata. Passiamo al sesto posto. Qui troviamo Gervinio, del Parma. Gervinio, Gervinio. Allora, partendo dal presupposto che a me Gervinio piace tantissimo. È un giocatore di spinta, di corsa, di voglia. È un giocatore pieno di voglia di fare, pieno di cazzimma. È un giocatore velocissimo, velocissimo. Comunque, sappiamo che arrivare da un campionato cinese dove praticamente non hai fatto nulla e riprenderti andando in doppia cifra con il Parma, che manco è tutta questa squadra, senza una preparazione atletica top, come cacchia hai fatto? Probabilmente si sarà trovato bene. Ha un attacco con il Parma molto molto buono. In inglese, Biabiani e Gervinio. Un attacco di ripartenza, un attacco ottimo. Di tutti i giocatori che sono veramente ottimi, a parte Biabiani più o meno, ma lasciando perdere. Gervinio ha trovato veramente la sua dimensione a Parma. Spero che continui così da Romanista, perché io l'ho avuto. Spero che continui così. E che venga riconfermato anche gli anni prossimi, perché è un giocatore esplosivo, ma venga riconfermato in Serie A. Per favore, fatemelo rimanere, perché quando parte in contropiede è infermabile. Passiamo al quinto posto. E troviamo il Sharawi della Roma. Diciamo che tra tutti i giocatori della Roma è quello che tecnicamente è il superiore. è quello tecnicamente superiore. Con un tocco palla, una qualità di gioco, uno sprizzo folle superiore a tutti quanti. Diciamo che è il più fantasioso, è colui che crea più occasioni. inoltre, è anche il miglior marcatore quest'anno. Diciamo che tra gli attaccanti nessuno ha brillato. Ma dategli un'altra possibilità, perché è un giocatore forte, è un giocatore che ci serve. Un giocatore che ci serve e che non va ceduto. Io non lo voglio veder ceduto. In Cina non è stato ceduto, grazie a Dio. Speriamo che continui così e non venga più ceduto. Perché ci serve, ci serve. Anche per la panchina, ma ci serve, perché quando entra si fa sempre a trovare pronto. Mi ricordo una partita di Europa League, quella con Lione. Stavamo vincendo, ma eravamo comunque fuori. Stavamo vincendo 2-1, sì. E ci serviva un altro gol per passare. Allora, il Sharawi praticamente entrò, secondo tempo, e cambiò la partita. Comunque, fine partita. In senso, da lì, che Lione comunque ripartiva, cercava di segnare, cercava di pareggiarci, eravamo noi, da quando entra il Sharawi, a crossa sempre, sempre. Lui crossa. Lui è un giocatore che, appena entra, ti dà quello sprizzo in più. Quindi io lo voglio vedere assolutamente l'anno prossimo. Un giocatore essenziale. Quarto posto per Politano dell'Inter. Politano. Beh, che dire, Politano è un giocatore assurdo, allucinante. È un giocatore che amo, sotto tutti i punti di vista, come giocatore, perché è un giocatore veramente tecnico, è un giocatore che si è adattato all'Inter, perché non era facile adattarsi a questa Inter, soprattutto perché comunque aveva una concorrenza assurda di esterni, che da balde ok, non ha brillato. Perisi ci ha fatto, diciamo, la peggiore stagione in nero-azzurro. E poi abbiamo, 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 o che andreva. Quindi comunque c'è una discreta presenza di giocatori sulle fasce. Come punta, comunque ci sta, quindi comunque lui può giocare tutti i ruoli, può giocare punta, no, può giocare seconda punta, assolutamente sì, perché comunque è molto tecnico, ed è molto veloce, ha quel cambio passo che ti serve, e può giocare esterno, che diciamo il suo ruolo nel 4-2-3-1 di Spalletti è il suo ruolo, il suo ruolo tipico, quello di destra. Un sinistro ottimo, si merita assolutamente la riconferma in nero-azzurro, per ciò che ha fatto vedere, un giocatore futuro, certo per questa nazionale, e spero che continui così, perché ci serve veramente un giovane di questo livello, e tra l'altro scuola a Roma. Comunque è un giocatore ottimo, e spero che continui così. Passiamo al terzo posto, e troviamo Orsolini del Bologna. Quest'anno è stata la sua consacrazione, Orsolini è un giocatore che probabilmente alla Juve non giocherà, perché ha troppi, quindi io lo venderei a questo punto, ha una cifra alta, comunque un ventino, ma è un giocatore pazzesco, un giocatore che serve a qualsiasi squadra. È un giocatore tecnico, velocissimo, veloce, tecnico, diciamo che è molto semile a politano, per certi aspetti, ma è un giocatore che è più, è più un rapace d'area di politano, nel senso che non è un rapace d'aria, ma è tra, non lo so, in un 3-5-2, lui sarebbe più indicato per fare la punta, insieme alla punta tosta. Perché? Perché è tecnico, ma soprattutto si sa inserire, si sa inserire continuamente, la prende sempre lui, e quest'anno ha fatto una stagione pazzesca, salvando, all'uggero le tante è andato in merda, ma è andato in merda per tutta il Bologna. Giorgio di Torno si è riconsacrato, Melovic l'ha fatto esplodere, perché da lì con Sansone faceva una coppia di esterni allucinante, con Santandero, destro, chi che sia davanti, una coppia di esterni allucinante, con Soriano, che tra l'altro è del quartista, comunque un Bologna ottimo, ottimo, che voleva salvarsi, addirittura è arrivato decimo, dal terzo ultimo posto. e quindi, diciamo che si merita assolutamente il terzo posto, perché sì, perché ha fatto una stagione allucinante, ha fatto una stagione incredibile, in cui segnava sempre lui, a un certo punto segnava sempre lui del Bologna, segnava sempre lui, quindi, io terzo posto lo metto assolutamente. Secondo posto per Joachim Correa, della Lazio, secondo posto, un giocatore esplosivo, è tutto, è tutto Joachim, è tutto tosto, veloce, tattico, è un giocatore allucinante, con Immobile o con Caicedo, ha fatto una coppia allucinante, si sa inserire, segna tantissimi gol, diciamo, è il nuovo Luis Alberto, però è molto più veloce, forse è meno tecnico, ma è molto tattico, sa giocare bene, ha fatto un colpaccio dare a Piarlo, ha fatto un colpaccio, perché si sapeva che Luis Alberto non avrebbe reso come l'anno scorso, e Correa gli ha rubato il posto dall'inizio alla fine, poi si inzaghi ha adattato, ha adattato Luis Alberto per farlo giocare a centrocampo, comunque creando un centrocampo completo, Minkovic, Savic, Leiva, Luis Alberto e tre quarti da Correa, quindi comunque l'ultimo centrocampo, con tra l'altro i Terzini, scusate con altri Ulice, eccetera eccetera, diciamo che Correa, un ottimo, 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 ottimo giocatore, che si deve tenere con le unghie e con i denti, non lo deve vendere a nessuno, scusate, perché non deve, non deve partire adesso, non deve partire adesso, quindi, passiamo, perché è troppo importante per l'alazzo, passiamo al primo posto, qui troviamo Iosip e Leicic, della Tannata, nulla da dire, nulla da dire, il classico giocatore discontinuo, che è diventato il classico giocatore Dio, il classico Dio sceso in terra, che segna in ogni modo, in ogni modo, in ogni modo, tecnica pazzesca, tecnica pazzesca, saperebbe palleggiare con la sabbia, poi, tiro, tiro precisissimo, e anche potente, precisissimo, che su punizione, può segnare da qualsiasi posizione, veramente, su punizione può segnare da qualsiasi posizione, poi, velocità, ottimo, non è lento, non è assolutamente lento, dribbling sopraffino, si scarta pure la madonna, insieme, fanno il giocatore dell'Atalanta, Cardine, il giocatore più importante di questa Atalanta, il giocatore perfetto dell'Atalanta, il giocatore perfetto dell'Atalanta, veramente, tecnica allucinante, scambi continui con Zapata, creando un duo d'attacco, che è qualcosa di inconcepibile, è qualcosa di inconcepibile, tecnica, tattica, voglia di far gol, perché quest'anno ha trovato la vena realizzativa, che non ha trovato mai, con la Fiorentina, era discontinuissimo, col Palermo un pochino, ma comunque è esploso, il Palermo ha fatto vedere delle buonissime cose, da quando è arrivato l'Atalanta, l'anno scorso ha fatto un ottimo assaggio, una buona stagione, comunque è un'ottima, un'ottima stagione, ancora qualcosa della contività bisognava trovare, quest'anno è partito abbastanza malino, e poi si è ritrovato, e poi ha fatto la stagione di Cristo, ha fatto una stagione assurda, assurda, una stagione allucinante, coronata da goal assist, e coronata la ciliegina sulla colonna, sulla torta diciamo, e l'arrivo in Champions League, è quel terzo posto che ti serve come il pane, cioè non è che ti serve come il pane, perché non ti serve, non era un obiettivo, è quel terzo posto, che ti dà la soddisfazione di continuare a lottare, probabilmente verrà venduto al Napoli, probabilmente, ma io giocherei quest'anno con l'Atalanta, perché sei il punto cardine, perché la Champions la puoi fare, a mio parere, chi se ne vuole andare l'Atalanta? Chi? Nessuno, chi? A questo punto nessuno, anche se probabilmente ci saranno delle eccezioni, anche se Muriel è stato già comprato, quindi ci sarà un ottimo rinforzo per la Champions. Bene, questo video finisce qui, mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale, e commentate qui sotto con la vostra classifica. Bella!